Oroscopo settimanale, dal 19, al 25 marzo, 2018. Ariete. Amore. Sarà accontentato. Una persona che inizialmente si è mostrata fredda e diffidente nei vostri confronti, riuscirà ad aprirsi e… sarà magia. Le coppie potranno sfruttare i transiti favorevoli dei pianeti per fare rose e i progetti per il futuro, matrimoni, concepimenti, tutto è possibile. Lavoro. Vi terranno molto sulle spine. Chiedete una consulenza per risolverle al più presto. Sarete chiamati a fare una scelta e non sarà facile. Le stelle consigliano di agire con cautela. Vi si apre un periodo positivo, nonostante le piccole tensioni da tenere sotto controllo. Cercate maggiori garanzie per il futuro? La svolta è vicina. Non rattristatevi. Toro. Toro. Amore. Amore. Per dispetto o per una erronea valutazione ritornerà e… stravolgerà il vostro equilibrio. Tenetevi pronti. State alla larga dalle persone che vi fanno solo innervosire o che si mostrano poco chiare. Chi è in coppia, invece, deve evitare i contrasti con la persona amata e mostrarsi più diplomatico. E soprattutto proteggere lintimità da interferenze di parenti o amici. Concedetevi seratine allinsegna dellero se i problemi svaniranno come neve al sole. Lavoro, il nervosismo va tenuto sotto controllo, soprattutto se siete in procinto di effettuare un colloquio oppure se vi state preparando ad un esame importante. Qualcosa sta iniziando a cambiare. E loroscopo garantisce che si tratterà di un cambiamento positivo, ben accetto. Non sottovalutate laiuto dei colleghi. Potrebbero rivelarsi davvero preziosi data la gran mole di compiti da svolgere egregiamente. Chi sta pensando di effettuare un viaggio allestero per porsi nuovi obiettivi o battere nuove piste, otterrà presto o mai stato insperato. Bene l'andamento delle finanze. Riuscirete a fronteggiare le spese extra senza troppi problemi. Il fisico sarà messo a dura prova e lo stress potrebbe prendere il sopravvento. Portare avanti i vostri progetti non sarà facile, ma Saturno, prezioso alleato, vi aiuterà a concretizzare sogni e desideri in tempi record. Gemelli. Amore. Tempo fa, considerava il fulcro delle proprie giornate. Chi ha chiuso una storia logorata da dubbi e ambiguità, azzarderà finalmente una svolta. Le coppie ben collaudate, invece, saranno chiamate a fare scelte importanti e molte di esse, riguarderanno programmi a lunga scadenza. Lavoro. Amore. 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 Cancro. Amore. Non rinvangate il passato, le stelle suggeriscono di guardare al futuro con maggiore fiducia. Chi è in coppia, invece, metterà in crisi il partner che difficilmente riuscirà a decifrare silenzi e atteggiamenti. Ci saranno tensioni da risolvere per il benessere dello stare insieme. Una volta superate attraverso il dialogo sincero e profondo, tutto si sistemerà. I cuori solitari che intendono restare tali ancora per poco, devono agire con decisione allontanando timori e paure infondate. La settimana è ricca di incertezze, ma… è previsto un grandioso recupero. Molti nativi si ritroveranno a discutere con i propri cari per una questione privata, gli astri consigliano massima prudenza nellesternare i propri punti di vista. Se una persona stuzzica la vostra curiosità, cosa aspettate a proporvi?. Lavoro, non ci saranno ostacoli per la vostra carriera. Chi è in procinto di trasferirsi in un nuovo ambiente di lavoro può dormire serenamente. Riuscirà ad ambientarsi alla grande. Chi lavora in proprio, invece, potrebbe subire piccoli rallentamenti dovuti a diffidenze o problemi da risolvere. Negoziati e trattative saranno gestiti alla grande, senza sforzi eccessivi. I giovani nativi che si stanno avvicinando timidamente al mondo del lavoro potrebbero essere invasi da mille dubbi e perplessità. Scioglieteli con laiuto di una persona più grande ed esperta di voi. Loro scopo rivela che i giochi astrali premiano chi è interessato a farsi apprezzare dal capo per le proprie doti e per la propria correttezza. Chi, invece, ha aperto una nuova attività da poco, deve pazientare ancora un altro po' se i risultati non sembrano essere quelli sperati. Leone. Effettueranno, presto, nuove gradite conoscenze. E ciò che risulta sorprendente è che non si esauriranno nell'arco di una notte. Ma metteranno radici. Le coppie vivranno momenti fortemente caratterizzati da alti e bassi. La trazione è fortissima e consente di superare anche i diverbi più accesi. Il mix astrale indica questa settimana come il periodo migliore sia per provare a ricominciare che per iniziare a vivere un nuovo amore. Non sottovalutate quegli incontri che nasceranno da impensabili coincidenze. Lavoro, fase interessante per cercare di risolvere un problema. Chi, invece, ha vissuto un periodo di crisi, riuscirà ad intravedere, grazie al concreto aiuto di un collaboratore, nuove prospettive. Ci saranno inghippi da risolvere. Le intuizioni sono concrete, solide, vi consentiranno di sciogliere nodi e discussioni con molta facilità. Giove vi aiuterà ad uscire brillantemente da un periodo caratterizzato da forti incertezze economiche. Le relazioni sociali migliorano e ciò è ottimo per sancire nuove alleanze. Fioccheranno proposte e offerte che movimenteranno non poco la vita dei nativi in cerca di un nuovo impiego. Loro scopo rivela che molti di voi si ritroveranno a rispolverare vecchi progetti e da riconsiderarli con una consapevolezza tutta nuova. Virgine. Amore, freddezza e distacco, che hanno caratterizzato il rapporto con la persona amata nei mesi addietro, saranno solo un lontanissimo ricordo. Il vostro atteggiamento nei confronti della dolce meta sta cambiando. Volete costruire ardentemente qualcosa di nuovo e le stelle svelano che ci sono tutti i presupposti per farlo. I cuori solitari, invece, come riporta loroscopo, non devono scoraggiarsi. Datevi alla pazza gioia. Accettate inviti, migliorate la vita sociale e. Sarete premiati con incontri molto intriganti. Una persona molto diversa da voi caratterialmente vi stuzzicherà non poco. Conviene approfondire, senza badare a pregiudizi. Ascoltate il consiglio di un amico o di un parente riguardo ad una questione privata o familiare che vi sta molto a cuore. Lavoro. La vita professionale è in continuo fermento. Ci saranno riconferme e nuove responsabilità. Bilancia. Amore. 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 Scorpione. Amore. Amore. Amore, la situazione astrale è estremamente favorevole per la nascita di nuovi amori. Vi saranno attrazioni e cotte improvvise, innamoramenti ed esperienze particolari tutte da vivere. Chi è legato sentimentalmente, per fortuna, vivrà una settimana serena, priva di scossoni e turbulenze. Venere spruna a lavorare ai progetti di coppia e da non accantonarli. Attenzione, però, agli attriti che scaturiranno le testere. Lavoro. Lavoro. I nativi che hanno intenzione di avanzare richieste al capo non devono fare passi azzardati, ma studiare bene cosa dire. Calibrate le entrate e le uscite, potrebbero esserci spese impreviste per la casa o per lattività professionale che gestirete. Chi studia, infine, riuscirà a raggiungere ottimi risultati. In arrivo riconoscimenti e promozioni. Sagittario. Amore. Capricorno. Capricorno. Amore. 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 Settimana di grande interesse per la sfera dei sentimenti. Amore. 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 Lavoro. Oppure precipitare nell'apatia. Questo atteggiamento non porta a nulla di buono. La settimana è ottima per riflettere, su ciò che si desidera e su come cambiare in meglio la propria attività professionale. L'oroscopo rivela che chi ha ricevuto un nuovo incarico riceverà l'odi e inaspettati riconoscimenti. In arrivo trasferimenti, risposte attese da tempo, situazioni che comportano nuove opportunità anche in settori mai esplorati prima d'ora. Chi ha iniziato un progetto tutto nuovo, potrebbe incontrare ostacoli di varia natura, economici, legati a collaboratori che si riveleranno poco affidabili, ecc. Il consiglio delle stelle è quello di non cedere al nervosismo e soprattutto di non buttare tutto all'aria, soprattutto se si tratta di situazioni che valgono realmente per il futuro. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il consiglio delle stelle è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.